La nostra rubrica dedicata ai libri, vediamo cosa c'è oggi in vetrina. Il festival a casa del boss di Pietro Nardiello, edito da Fibes. Il volume raccoglie l'esperienza delle quattro edizioni del festival dell'impegno civile promosso dal comitato Peppe Diana. Nardiello, ideatore e direttore artistico della Rassegna, racconta in questo libro il festival con i suoi retroscena e le speranze di riscatto, avvalendosi anche di importanti testimonianze sociali dal mondo del giornalismo, della cultura e delle istituzioni.